Trapanesi al vuoto, domani in città si torna alle urne per il secondo turno delle amministrative in corsa, come sapete dopo l'esclusione di Fassio c'è il solo Pietro Savona. Condotta riparata, ultimati gli interventi in via Libica a Trapani, però resta ancora in vigore il diveto di bagnazione sul lungomare Dante Alighieri. A settembre invece partono i lavori delle ferrovie, c'è quelli di ripristino della linea ferroviaria Trapani-Palermo via Milo e lo ha annunciato la senatrice Pamela Orru. Il weekend di I Love Terra City, seconda serata ieri della manifestazione giunta alla sua quarta edizione e che andrà avanti per tutto il fine settimana. Dopo lo sport, Italo Cucci presenta il nuovo Trapani, ospite del talk show sportivo proprio nella manifestazione ai Love Terrasini, il noto giornalista fa il punto sulla realtà calcistica Granata. Questi i titoli della prima edizione del telegiornale, adesso ci fermiamo per una veloce pausa pubblicitaria e dopo vi facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda il voto di domani. Ed eccoci qua, domani finalmente si vota e si conclude questa estenuante ed anche abbastanza strana campagna elettorale per le amministrative proprio sul Trapani. Una campagna elettorale che comunque non solo passerà alla storia per vari motivi ma che diventerà, ma già lo è diventata, anche materia di studio, certamente per quanto riguarda la limatura della stessa legge elettorale regolata da alcune norme che in qualche maniera è stato detto da più fronti, cozzano quasi fra di loro e per cui già sono oggetto di attenzione per cercare di evitare probabilmente in futuro situazioni come quella tutta trapanese. Ma al di là degli aspetti tecnico-amministrativi, domani si vota regolarmente per il voto di ballottaggio e a Trapani, come sapete c'è un unico candidato sindaco. Per diventare sindaco, Savona, Piero Savona, deve non verificarsi in due condizioni. La prima è che a votare domani vadano almeno il 50% più uno di tutti gli iscritti nelle liste elettorali per cui circa 30.000 aventi diritto tra paresi e che lo stesso Pietro Savona comunque prenda voti a suo favore per almeno il 25% sempre degli aventi diritto per cui circa 15.000. Un po' il sunto lo facciamo in questo servizio. Vediamo. Le operazioni di voto si apriranno domani mattina alle 7 e andranno avanti fino alle 23. Dopodiché inizierà lo scrutinio delle schede. A Trapani gli aventi diritto sono in tutto 60.023 cittadini. Per poter votare l'elettore dovrà esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale e a carattere permanente. Come noto a Trapani, per l'elezione a sindaco c'è in corso un solo candidato, Pietro Savona, l'altro candidato che alle elezioni dello scorso 11 giugno era passato al secondo turno, ovvero Mimmo Fazio, è stato infatti formalmente escluso dal ballottaggio a causa della mancata indicazione degli assessori designati mancanti. Già qualche giorno prima aveva annunciato la sospensione della sua campagna elettorale a causa delle vicende giudiziarie in cui è coinvolto, senza però prospettare un formale ritiro. Ma l'esclusione ufficiale è arrivata qualche giorno dopo per il non completamento della sua squadra di assessori designati. Savona è così rimasto l'unico pretendente alla carica di primo cittadino di Trapani. Ma essendoci in corsa un solo candidato, in questo caso è necessario il raggiungimento del quorum del 50% dei votanti. E sempre, in base a quanto previsto dalla norma, il candidato deve essere votato da almeno il 25% degli iscritti nelle liste elettorali. In caso di mancato raggiungimento del quorum scatterà il commissariamento con i trapanesi, che saranno chiamati nuovamente alle urne nella prima tornata elettorale utile. Nel servizio probabilmente, insomma, magari alcuni possono non ben comprendere, è stato detto il 50% dei votanti, come invece ho detto nell'introduzione, al servizio del suolo il 50% degli aventi diritto, quindi non dei votanti, ma degli aventi diritto al voto, per quanto riguarda la città di Trapani. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre nel capoluogo, perché è stata riparata finalmente la condotta di via libica a Trapani, che si era rotta e quindi c'era stato lo sversamento di liquami in mare, nel tratto antistante il Cavallino Bianco. Adesso si attende proprio la revoca del divieto di bagnazione proprio in quel tratto di mare. Vediamo. Ultimata la riparazione del tratto di condotta fognaria situata tra la via libica e la via Culcase, nella zona industriale di Trapani, che la scorsa settimana aveva subito un cedimento che aveva provocato un limitato sversamento dei refugli nel tratto di mare, compreso tra Litorrombo e l'hotel Cavallino Bianco. Su quel tratto di Litorrombo, a scopo cautelativo, era stata interdetta l'abbandonazione con la fissione degli appositi cartelli. Il problema è stato risolto grazie alla decisione da parte dell'amministrazione comunale di affidare l'incarico della riparazione ad un artigiano locale che ha realizzato manualmente il tratto di condotta che è stato messo in posa a sostituzione di quello danneggiato. Diversamente si sarebbe dovuto attendere diversi giorni per l'arrivo del pezzo da parte della ditta che produce le condotte. Frattanto è stato eseguito anche lo sguodamento della vasca di accumulo. Si attenta adesso l'esito delle analisi delle acque del tratto di mare interessato allo sversamento che, se sarà esito negativo, consentirà l'arrevoca del divieto di balneazione che fino a questa mattina però era ancora in vigore. Come annunciato, parliamo di erice, all'atto dell'insediamento della nuova giunta del sindaco di erice Daniela Toscano, i primi atti hanno riguardato proprio la gestione in uso degli immobili confiscati e che appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, precisamente in particolare quello ubicato in via Convento San Francesco di Paola. Dopo aver preso atto dell'assegnazione del bene immobile da parte dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l'Aggiunta ha disposto l'avvio delle procedure per l'assegnazione e ha individuato gli ambiti di priorità e di criteri guida ai quali si dovrà fare riferimento. L'assegnazione verrà effettuata nel rispetto della normativa antimafia. L'immobile potrà essere richiesto e concesso fino a un massimo di 20 anni mediante la stipula di una convenzione che prevede un canone di locazione minimo di 1.200 euro. Comunque, siccome ci sono delle date da rispettare, entro le quali avviare la richiesta, vi invitiamo ad avere tutte le informazioni possibili e immaginabili su questo aspetto consultando il sito internet del Comune di Erice. Invece a settembre partiranno i lavori di ripristino della linea ferroviaria Trapani-Palermo-Via Milo e la notizia è stata data dalla senatrice Pamela Orrutti. I lavori per il ripristino della linea ferroviaria Trapani-Palermo-Via Milo, interrotta nel febbraio 2013 per una frana e mai riattivata, partiranno nei primi giorni del prossimo mese di settembre. Lo ha fatto sapere la senatrice trapanese del PD Pamela Orrutti, a cui la notizia è stata comunicata dai vertici di RFI. Sulla vicenda la parlamentare ha presentato negli anni diverse interrogazioni e ordine del giorno interessando il Governo nazionale, i vertici di RFI e il Governo regionale siciliano. La riattivazione dell'importante raccordo ferroviario permetterà di collegare le due città in un tempo più breve rispetto alla tratta Trapani-Palermo-Via Castelvetrano, venendo anche incontro alle esigenze dei numerosi pendolari che tanti disagi hanno patito in questi anni. Sul tema, un ordine del giorno della senatrice Orrutti era stato accolto in sede di esame del decreto Sblocca Italia, che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di provvedere al ripristino della funzionalità, al potenziamento e alla messa in sicurezza della tratta ferroviaria. Un incontro promosso da Orrutti era tenuto anche alla regione siciliana. La senatrice aveva incontrato più volte il Ministro del Rio, relazionato sulla questione in Commissione Lavori Pubblici, nel corso dell'audizione informale in cui erano stati ascoltati i vertici di RFI. Nell'agosto dello scorso anno era arrivata infine l'approvazione da parte del Cipe dell'aggiornamento del contratto di programma RFI contenente il finanziamento di 69 milioni di euro, quale risorsa stanziata a livello nazionale per il ripristino della Trapani-Palermo via Milo. La senatrice Orrutti ha espresso soddisfazione e apprezzamento per l'esito positivo della vicenda che consentirà, ha rimarcato la parlamentare, di non penalizzare ulteriormente l'economia di un territorio già fortemente provato. Per la Orrutti la tratta ferroviaria Trapani-Palermo costituisce una via cruciale per lo sviluppo dell'aria che necessita di ulteriore potenziamento e non di interruzioni e dismissioni. La senatrice del PD ha infine assicurato che adesso il suo impegno continuerà per ottenere anche l'attivazione del collegamento ferroviario dei due aeroporti di Trapani e Palermo. E continua all'autobarco comunale di Trapani l'Arco-In che quest'anno è giunto alla sua 24esima edizione. L'iniziativa quest'anno ha registrato una grande affluenza di pubblico. La fiera si potrà visitare ancora oggi e domani, ci sono diverse iniziative in programma. Stasera per esempio ci sarà lo spettacolo Tutto Bambini con canti, balli, sfilate di bambini fino a 12 anni. Domani invece l'appuntamento sarà con il concorso Bellezze di Sicilia e poi la prima selezione per il casting del film Miss Protagonista. Infine il cabaret con i fratelli Manu Guerra. A proposito di spettacoli e di iniziative per l'estate, seconda serata di I Love Terrasini che è una manifestazione giunta alla quarta edizione dove c'è anche Media Partner Telesud e come sempre ci sono stati diversi spettacoli di intrattenimento ed anche musicali. Dopo il successo della giornata di apertura, ieri grande presenza di pubblico per la Kermess che da quattro anni allieta la città di Terrasini. Una serata preceduta da un talk show sportivo condotto da Stefania Renda. Occasione per parlare delle grandi realtà calcistiche come il Palermo ed il Trapani ma anche del volley femminile di Terrasini e delle realtà delle scuole calcio come l'ASD Renzo Lopiccolo. Ospiti il giornalista Italo Cucci, il calciatore Maurizio Ceramitaro, il coach Giuseppe Macaluso, Fabrizio Campagnano con il direttore marketing nazionale di Ferrari Club Italia, Gaspare Bianco. a seguire la musica itinerante degli ottoni animati. Con Alberto Anguzzo in realtà non soltanto tu perché sei insieme ai tuoi ottoni animati. Gli ottoni animati, eccoli qua. Per I Love Terrasini, insomma espatriamo ogni tanto, fa bene, ci apre la mente, ma portate anche la vostra musica in giro. Trapani, fuori Trapani, giriamo, insomma portiamo allegria dove ce lo chiedono. Il vostro è un genere molto particolare, riuscite a suonare tutto con gli ottoni, è una cosa magnifica perché la mente, la testa viaggia e riesce a raccoglierti questo sound, riesce proprio a farti partire da dentro questo tipo di musica. Sono brani completamente originali, noi non facciamo cover, suoniamo soltanto musica nostra, quindi quando la componiamo è scritto per questa formazione, già immaginando il sound è quello che vogliamo cercare di ricreare comunque. E invece per quanto riguarda l'ispirazione? Lui, questo qua, sì. Lui, la nostra musa ispiratrice. L'ispirazione è nata tutto dal maestro Alberto e Sandro Mancuso, circa nel 2009, quindi stiamo parlando di almeno nove anni fa, quindi no, nove anni. Perché il prossimo anno noi compiamo dieci anni e poi guarda l'amore, cioè, si tocca con mano. Il prossimo anno celebreremo appunto dieci anni di attività, cercando anche con l'aiuto di Telesud di organizzare un super mega evento come quello di I Love Terrasini. E invece qual è il complimento più bello che la vostra gente, la gente che vi ascolta, vi fa? Siete grassi, grandi, belli. Portate, cioè, il complimento più bello è che ci dicono, è portata l'allegria in strada. Prima del momento finale della serata con un DJ, lo spettacolo comico del duo Matranga e Munafo. Eccoci, I Love Terrasini, quarta edizione, punta sulla comicità, quindi voi che ci fate? Ma infatti, quello che ci chiedevamo noi. Ma noi in verità, questo è il terzo anno. Sì, che facciamo uno spettacolo che fa riflettere. Capito? Perché non sappiamo più cosa dire, quindi ci sarà il silenzio, la gente riflette, pensa alla vita vera. Ho capito, quest'anno però ci siamo portati con noi una squadra di gente che dovrebbe essere in carcere, secondo me. E secondo anche, insomma, l'avvocato, diciamo, dell'accusa, che sono i ragazzi Quattro Gusti, i Respinti e Achiz, Achiz. Drogati, tutti drogati, tutta gente brutta. Vorrei dirti che hai del rossetto sulla guancia. Eh, ma... È il mio, è il mio. Che quando ci vediamo io metto il rossetto e lo bacio. Solamente quando ci vediamo. Sempre. Beh, però, palchi importanti, esperienze importanti, però il live credo che sia qualcosa di speciale, la piazza sia qualcosa di speciale. Sì, soprattutto con un pubblico che ci aspetta. Diciamo, non è la tipica piazza. Noi abbiamo fatto una miriade di piazze, quando eravamo più piccoli, dove arrivavamo e la gente ti guardava e diceva... Oh, no, che sta a fare? Cioè, era una cosa... E non ridevano. Non è cambiato niente. Nulla, nulla. Adesso ci aspettano, quindi è più facile, diciamo. Vabbè, la domanda è terribile, però hai obiettivi futuri, progetti futuri? Allora, sicuramente Sicilia Cabaret sta ancora lavorando nei laboratori. E quindi stiamo lavorando per avere delle cose nuove già dicembre. E poi ci sono delle belle cose, però non ne possiamo parlare. Un programma su Antenne Sicilia è una cosa nazionale che dovrebbe andare in porto, oltre al tipico Made in Sud, con cui ormai abbiamo una collaborazione. Cioè, ci occupiamo noi di mandare i comici a Made in Sud. E il nostro laboratorio lavora anche per Made in Sud. E poi, infine, lo spaccio che è quello che ci fa... Veramente campare, campare. Perché il resto soldi non è... Perché la cannabis terapia, ecco. Oggi, alle 19.15, il talk show dal titolo Un territorio croce via dello sviluppo turistico, condotto dai giornalisti Iana Cardinale e Pietro Vento. Alle 20.15 un appendice sulla sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia. Alle 20.30 poi, in Piazza Duomo, lo spettacolo acustico del duetto Duende Napoles. Alle 22.00, Autoreverse in concerto. E alle 23.00, il DJ Fabio Flesca di Radio Time. E per concludere, la tanto attesa Notte Bianca. Da Terrasini a Castelvetrano, domani alle 18.00, in Piazza San Francesco d'Assisi, si sarà la seconda edizione della rievocazione storica di San Giovanni Battista, che è organizzata dall'Associazione La Perla Imperiale. L'evento è arricchito dalla sfilata di 250 figuranti che faranno rivivere l'atmosfera del periodo rinascimentale e della storia del patrono. Ci saranno le esibizioni del gruppo degli sbandieratori e dei danzatori dell'Associazione, con la partecipazione di vari gruppi, tra cui musici e sbandieratori del Real Trinacria di Trapanierice, che è presieduto dal maestro Claudio Maltese. Invece al via il progetto sul miglioramento della comunicazione in oncologia e anche sulle conversazioni di fine vita. Il progetto è stato promosso dall'Asienda Sanitaria Provinciale di Trapani. L'Asp di Trapani, nella persona di Antonio Sparaco, dirigente medico dell'azienda, ha promosso un progetto dal titolo Benessere Mentale in Oncologia e le Comunicazioni di Fine Vita. In questi giorni, infatti, si è svolto il primo dei tanti corsi di formazione a cui hanno partecipato gli operatori dell'Asp, dagli oncologi e agli infermieri, dai visioterapisti e gli assistenti sociali, e sono intervenuti il commissario straordinario Giovanni Bavetta e il direttore amministrativo Rosanno Liva. L'obiettivo principale del progetto consiste nel promuovere la salute mentale e il benessere della persona fino alla fase finale della vita, aumentando le competenze comunicative degli operatori impegnati nelle cure, sia in ospedale che a domicilio. Lo stesso Sparaco ha spiegato come questo progetto serve per assicurare una buona qualità di assistenza, non solo con atti sociosanitari, ma anche con una comunicazione che deriva dall'utilizzo dei vari strumenti. Ha parlato anche del manuale sulla valutazione della comunicazione in oncologia dell'Istituto Superiore di Sanità. La nave ospedale Elpis conclude la sua prima tappa della lunga missione sanitaria che ha riguardato il Madagascar. L'altra faccia della medaglia, in pratica, per una città che certamente non sta vivendo un buon momento per le vicende politiche di questi giorni. Vediamo. Si è conclusa da qualche giorno la prima missione sanitaria, tra quelle previste a tappe, durante il lungo viaggio che la nave Elpis farà alla volta del Madagascar, circonnavigando l'Africa. Partita dal porto di Trapani il 30 aprile scorso, Elpis ha percorso circa 2.600 miglia marine per una durata di circa 25 giorni, comprensivi di una sosta forzata dovuta alle avverse condizioni meteo, a Puerto del Rosario, nell'isola di Fuerteventura, nel Canaria. Il viaggio, inoltre, ha comportato anche altre brevi soste tecniche per rifornimenti di vario genere a Hannaba e a Mostamgen, in Algeria, e Nadoro, in Marocco. La prima missione sanitaria, programmata prima della partenza di Elpis, di concerto con l'Associazione Small Mallus di Roma, è andata felicemente in porto grazie alla fattiva collaborazione della responsabile del progetto Madagascar con l'Elpis, che già da tempo, per diversi accessi, avevano installato a bordo della nave, con grande professionalità, la postazione odontoiatrica dotata di strumentario, di materiali di consumo e di farmaci. Intanto, questa sera a Trapani, al Circo del Tennis, ancora una cena con uno spettacolo per una raccolta fondi pro-Elpis. Sicuramente i trapanesi, così come hanno già fatto in passato, saranno vicini ad un progetto che, ancora di più in questo momento, rappresenta un riscatto per la città tutta. Cambiamo totalmente settore e anche città, ci spostiamo a Marsala, dove ieri è stata presentata la nuova collezione di Bulgari. Nelle storiche cantine Dona Fugata, in Via Lipari a Marsala, si è svolta ieri sera una serata esclusiva per la presentazione della nuova linea, la nuova collezione di gioielli e orologi Bulgari, a fare gli onori di casa e a raccontare l'evento, José Rallo, e poi ancora Giuliano Fecarotta, proprio della Bulgari. Dona Fugata negli anni ha sposato, per esempio, la musica, vino e musica, comunque vino e arte, vino e fare artigianale. Questa sera direi che il connubio è questo qua, Bulgari altissima gioioleria, Fecarotta una famiglia solidissima nel mondo del lusso, nel mondo della bellezza, e noi siamo qui per dirvi che la bellezza oggi è tutto. La bellezza è una grande spinta anche per chi fa vino, anche per chi vuole vivere il territorio. La bellezza deve essere uno scopo, un orizzonte al quale dobbiamo tutti tendere. Qual è la caratteristica di questa nuova linea? Cosa proponete? Allora, la linea più importante è una linea di orologi serpenti, che è un elemento dominante di Bulgari, questa volta con dei cinturini intercambiabili, che il cliente stesso può staccare e mettere uno di un altro colore. Questa è la cosa, diciamo, più divertente e più nuova. Ma poi abbiamo portato anche degli orologi molto, molto importanti, che hanno vinto dei premi di alta orologeria. Bulgari è famoso per i gioielli, ma per questi orologi sta diventando molto famoso. In particolare parliamo degli orologi Turbillion più piatti al mondo. E quindi questa è una cosa molto, molto bella e nuova, assolutamente. Possiamo parlare del valore anche di qualcuno di questi orologi? Questi orologi, questi ultrapiatti partono dai 12.000 e arrivano fino ai 150.000. E abbiamo qua un pezzo anche di altissimo livello. E si conclude qui questa edizione del telegiornale. Vi ricordo, se volete avere idea un po' di quello che è successo nel corso della settimana, con i fatti salienti certamente, l'appuntamento con il magazine riassuntivo in onda sul Telesudo, questa sera alle 19.40 e poi alle 22.40. invece domani sera immagino che sarete interessati a capire cosa succede dopo il voto del ballottaggio. Quindi vi do appuntamento alle 23 in diretta qui sul Telesudo per una riflessione e analisi appunto di quello che è successo, o meglio, che succederà certamente domani in giornata, ma anche ciò che è successo in questa campagna elettorale. Appuntamento quindi alle 23 in diretta sul Telesudo. Adesso vi auguro un buon fine settimana e vi lascio in compagnia dello Sport, dove anche il giornalista Italo Cucci un po' presenta la squadra del Trapani Calcio. Arrivederci. Continua il percorso di costruzione del nuovo Trapani. Il 12 luglio la squadra effettuerà la prima parte del ritiro a Spiazzo, occasione per vedere il cambiamento della fisionomia della squadra che, dopo i primi addi, potrebbe vedere anche la partenza di Lito Fazio, vicinissimo alla Cremonese. Su questo nuovo Trapani, ha detto la sua il giornalista Italo Cucci. Il Trapani Calcio riparte, riparte dalla Serie C, ma riparte da Mr. Calori. Una nata, alla fine possiamo dire, sfortunata, perché era partita malissimo, poi era andata bene, e alla fine però il Trapani ha potuto soltanto abbracciare questa retrocessione. Ripartire dallo stesso allenatore è la cosa giusta. Ma sai, se se la sente lui, è sicuramente meglio. Abbiamo visto che cosa succede, arrivare in alto e poi cadere precipitevolissimevolmente, mentre può darsi che la durezza della lezione che il Trapani involontariamente ha subito possa dare un incentivo nuovo per una ricostruzione. fermo restando che la Serie C è sempre un ottimo campionato. È un campionato nel quale si può crescere e si può cercare di recuperare quella posizione che il Trapani poi aveva meritato e mantenuto. Io ricordo i tempi di Moscaglia e mi auguro per Calori che possano tornare con i tempi di ricostruzione come sono stati i bei tempi che abbiamo vincito. Grazie per la visione!